Il verde, il paesaggio rilassante, bucolico, potremmo quasi dire, ci circonda, è un'ottima introduzione al tema di oggi, principale, del nostro tornasole, vale a dire la bellezza. E di bellezza parliamo attraverso una mostra dedicata a un grandissimo artista della storia dell'arte italiana come Umberto Boccioni, che però in questa mostra di Parma viene visto nei primordi, insomma all'inizio della sua carriera, che viene poi dopo commentata attraverso diverse fasi e diverse città. Ma subito dopo, rimaniamo sempre in ambito artistico, perché con Roberta Scorranese andiamo a scoprire il rapporto che c'è tra l'arte e il corpo. Ecco una mostra che accompagna per mano il visitatore, lo accompagna per mano attraverso il tempo, lo accompagna in questo caso alla scoperta di un artista come Boccioni prima di essere Boccioni, perché il grande pittore futurista ha avuto uno sviluppo che si basa sull'esperienza, meglio, le esperienze maturate in tre diverse città e in tre diversi ambienti, quello romano, quello veneziano e quello milanese. E tutto questo potrete ammirarlo alla Fondazione Magnani Rocca nei pressi di Parma. Gli esordi di Boccioni ovviamente sono segnati dalla tappa romana e dall'incontro con Gino Severini, ma soprattutto con il maestro Giacomo Balla che lo introduce alla tecnica divisionista. Il divisionismo allora, ma che cos'era il divisionismo? Copio e incolla la definizione wikipediesca, uno stile caratterizzato dalla separazione dei colori in singoli punti o linee che interagiscono tra di loro. E aggiungo da profano qualcosa di simile a quello degli impressionisti, ma torniamo a Boccioni nel periodo veneziano. I pittori simbolisti che nell'epoca, in quegli anni lì, erano raccolti intorno a Mario De Maria, il pittore delle luni, Mario Spictor, come l'aveva definito D'Annunzio, un pittore d'Annunziano, che invece guardava una Venezia gotica, decadente, misteriosa, notturna, con questi palazzi spettrali che si rivelavano alla luce della luna e quel tipo di Venezia tutto sommato gli era più congeniale. E chiudiamo con Milano. Boccioni a Milano, grazie agli esempi della pittura di Segantini e di Previati, quindi di questa tendenza alla pittura cosiddetta idealista o simbolista, tenderà sempre più alla ricerca di una pittura che attraverso quelli che sono i mezzi linguistici, quindi la linea, il colore, la luce, il ductus pittorico, riesce a farsi espressione di una idealità, di un sentimento, di un'emozione che non parte più da quella che è la rappresentazione di qualcosa, ma dalla capacità stessa della pittura di creare e di evocare una suggestione. È sempre troppo poco il tempo che dedichiamo alla bellezza dell'arte. In questo suo saggio Roberta Scorranese muove dalla quotidianità per suggerire un atteggiamento di contemplazione. Sapete quanto tempo ci fermiamo di fronte a un'opera d'arte in media? Un minuto, di fronte a un capolavoro che è fatto per parlarci. E allora in questo libro, tramite dipinti sono famosi, ma non scontati, dalla Maddalena Penitente di Caravaggio, alla Madonna del Parto di Piero, fino al doppio ritratto di Croier, un impressionista nordico, ho cercato di mettermi di fronte alle opere d'arte, guardando, senza giudizio, e cercando di recuperare quello che può essere oggi il nostro corpo. A questo serve il corpo. E poi ci sono i percorsi della giornalista che deve fare anche conti con la vita personale. Sì, più che altro, sì, sono le storie di una donna come me, appunto, come tante persone che poi visitano, girano, vanno per musei e provano a scoprire anche cose diverse e a vedere nelle opere delle cose diverse, tutto riconducibile, riconducendo tutto insomma a quello che è il nostro corpo, soprattutto il corpo femminile, che è tanto guardato, tanto giudicato, tanto sezionato, poco contemplato forse. Sei riuscita anche, in qualche modo, a non essere mai dottorale, no? Non hai perso la freschezza dell'interesse. Dicevi tu ci si ferma soltanto un minuto, ecco, invece si capisce che tu ci si sei fermata molto di più. Questo è molto bello, perché è vero, la freschezza è un retaggio di uno sguardo diverso, cioè di uno sguardo non critico, senza giudizio. Io non sono un accademico, sono una giornalista e ci tengo molto a questa definizione. È un lavoro nobile, importante, se fatto bene, se fatto con criterio, se fatto con umiltà. Questo è molto, per me, molto importante. Quindi lo sguardo è quello, comunque, giustamente tu dicevi indagine, ed è vero, c'è un'indagine umile, un'indagine che è durata tanto tempo, tanto studio, ovviamente, ma soprattutto andando di persona a vedere queste cose. E ora ci spostiamo sul versante della scrittura, una scrittura di impegno, come si diceva forse una volta, ma è il termine molto adatto anche al libro di cui parliamo adesso, un libro di Antonio Bortoluzzi, che si dedica a una tragedia del nostro paese, una tragedia mai dimenticata e celebrata, ricordata meglio, in questi giorni, quella del Vajonte. Con il suo romanzo, Il saldatore del Vajonte, Antonio Bortoluzzi ci racconta il prima e il dopo della tragedia, che è anche un po' un prima e un dopo della nostra storia. Il Vajonte ha distrutto non solo tante vite, ma ha distrutto le comunità. Questo è il grande fatto. Longarone, Pirago, Faè, Villanova, Rivalta, cinque comuni distrutti e altri ancora danneggiati dalla muraglia d'acqua che la frana del Monte Toc fece esondare dalla diga del Vajonte. Era la sera del 9 ottobre 1963. Furono 1910 i morti accertati, 1300 i dispersi mai ritrovati. Una strage di povera gente che rivive nel romanzo di Antonio Bortoluzzi, Il saldatore del Vajonte. Io sono stato a una visita guidata alla centrale di Soverzene, alla diga, e ho visto questi manufatti, questa tecnica, queste cose ben fatte, fatte per durare nel tempo. E ho pensato a come fossero in realtà, concorressero alla costruzione di un inferno in terra. Vi concorre col suo lavoro anche il protagonista del romanzo, un uomo non più giovane, con qualche problema di salute e il pensiero alla pensione che non arriva e che verrà travolto dal dolore immenso di una comunità devastata. Bortoluzzi lo racconta con una scrittura che cerca di sottrarre il pathos per narrare chirurgicamente i fatti e le vite delle persone. Quando scrivo non ho, diciamo così, un obiettivo stilistico. Io credo che se ne è uscito uno stile dipende dalla storia che ho incontrato e dipende un po' anche dalla vita che ho vissuto e dalle persone con cui ho parlato. Perché le persone mi hanno anche raccontato, i miei colleghi di lavoro di fabbrica a Longarone, che sono figli e nipoti delle vittime, degli scomparsi, dei superstiti, mi hanno raccontato le loro storie con dignità. Non c'è mai stato piagnisteo. C'è sempre stata grande dignità, senso di ingiustizia, a volte anche rabbia. Sentimenti che abbiamo visto emergere in occasione di altri disastri, la maggior parte causati dall'incuria dell'uomo, mentre si spera sempre che la tragica lezione di una strage del genere venga ben compresa. Credo che il Bayon ti insegni che bisogna prestare attenzione alle persone prima di tutto e alle cose che abbiamo intorno. Rimaniamo in tema di letteratura, però scomodiamo i pesi massimi perché un docente, un linguista espertissimo come Terrinoni è andato ad analizzare una grande amicizia, e che amicizia, tra Italo Svevo e James Joyce. Un filo rosso lega la vita di James Joyce a quella di Italo Svevo, non solo per quanto è già noto, e cioè la promozione internazionale che il grande dublinese fece dell'opera del Triestino, ma anche per molto di più, ed è questo di più che ancora non si conosce, che racconta Enrico Terrinoni nel suo ultimo saggio narrativo intitolato La vita dell'altro Svevo, Joyce, un'amicizia geniale. Con un'attenta ricerca delle fonti, in particolare le lettere scambiate tra i due, fa emergere le affinità umane e artistiche, come pure le reciproche influenze. Ho provato a raccontare la vita dell'uno allo specchio della vita dell'altro, come se fosse riflessa in uno specchio oscuro, ma questo tentativo di raccontare due esistenze in parallelo ha fatto sì che si scoprissero anche delle interconnessioni. Joyce, quando arriva a Trieste per sbarcare il Lunario, va a insegnare inglese alla Berlitz School, ricevendo un notevole successo. Tra i suoi allievi privati c'è Ettore Smith, alias Italo Svevo, entrambi condividono interessi letterari, scoppia così un'intesa. Joyce legge i romanzi pubblicati senza successo dell'amico, Una vita e sedilità, è entusiasta, li ama, scoprono di avere parecchio in comune. Questi sono scrittori autobiografici, sono scrittori che traducono la vita in inchiostro e che prendono le proprie esperienze per renderle significative. Se Svevo è un ebreo non praticante che diventerà il modello di Bloom, il protagonista dell'Ulisse, Joyce, pur definendosi ateo, ha sempre mantenuto un rapporto profondo con il cattolicesimo. Un aneddoto, quando Joyce aveva più o meno la mia età, si trova in una spiaggia del nord Europa e c'è una tempesta, ci sono dei fulmine, Joyce ha paura dei fulmine perché è convinto che siano la punizione divina, ma lui aveva abbandonato il cristianesimo da molti anni. Succede che scappa via, scappa in taxi e il suo amico indica ai suoi figli e dice «Ma Joyce, ma guarda, perché hai tanta paura? Loro non hanno paura, sono più piccoli di te» e Joyce dice «Loro non sono religiosi».